Salve gente, allora un campionato sicuramente interessante sia per la posizione di alta classifica ci sono tre squadre che se la stanno giocando, il Milan ha recuperato diversi punti sull'Inter l'Inter al momento seconda ma ha una partita in meno, il Napoli che sta lì che comunque vuole fare magari uno sgambetto entrambe e il Milan che comunque nonostante tante difficoltà che ha avuto non le ha mai fatte pesare e zitto zitto ha sempre continuato il suo gioco, il suo percorso che ormai da diverso tempo perché già sono oltre due anni che porta avanti e quindi diciamo c'è una bella lotta in quei posti per quanto continuo a dire che secondo me l'Inter è un pochetto più organizzata ma mai dire mai, ripeto, sono tre situazioni diverse con tre squadre che ci credono e fanno bene a crederci sotto invece la situazione è diversa e adesso ne andiamo a parlare prima però tu che stai avendo questo video se ancora ne avessi fatto, come sempre iscriviti al canale potrai sempre disiscriverti quando vorrai, ricordatelo, è facile iscriversi, è facile disiscriversi tutto è gratuito ma se ti iscrivi ricordati di cliccare sulla campanellina è un gesto semplice che ti permette di rimanere aggiornato su tutti i contenuti del canale te lo consiglio, clicca sulla campanellina e vai su tutte le notifiche poi, come sempre, Instagram con NostraFamous76 se hai un profilo Instagram seguimi anche su Instagram e Clubhouse, ragazzi, questa sera avevo previsto una stanza in realtà poi vedrò un impegno e l'altro non riuscirò a fare la stanza oggi alle 21.40, lunedì San Valentino, lunedì 14 ci vediamo direttamente domani quindi è importante che vediate questo video perché domani verrà fatto, domani martedì 15 alle 21.40 aprirò una stanza su Clubhouse quindi chi è iscritto sarà avvisato chi non è iscritto approfittatene per iscrivervi scaricare Clubhouse e cercarmi come Paolo Nostra domani martedì 15 alle 21.40 quindi non questa sera allora, stiamo dicendo andiamo alla zona che è più interessante secondo me perché c'è una lotta al quarto posto che sembrerebbe insomma più per due squadre per Atalanta e Juventus che ieri sono affrontate diverse situazioni arbitrali insomma discutibili non voglio entrare nella partita comunque una partita che io speravo finisse in pareggio e così è stato questo perché? perché ovviamente dà un po' di respiro un po' di speranza anche chi è un pochetto più dietro e qui entra in gioco la Lazio la Lazio che secondo me, sapete senza che ritorno a fare tutto il percorso fatto finora secondo me in alcune partite ha perso punti non tanto per colpa del campo quanto per colpa di scelte ma diciamo adesso ci troviamo in questa situazione una situazione dove si spera che Sarri abbia capito un po' qual è la squadra ottimale seppur adesso dobbiamo privarci di Lazzari per almeno un mese seppur abbiamo degli espulsi che quindi perderanno almeno una giornata e che quindi con l'Udinese saremmo costretti a fare delle scelte obbligate e le scelte obbligate sono quelli con quei giocatori che la dirigenza ha fornito quindi vediamo secondo me con l'Udinese comunque ce la possiamo fare anche con le riserve che abbiamo anche perché sarebbe importantissimo proprio per continuare la classifica perché la prossima giornata vede si ha una Juventus-Torino quindi un derby dove questa volta il Torino magari potrebbe un pochettino fare lo sgambetto alla Juve abbiamo il Fiorentina con l'Atalanta quindi diciamo o una Fiorentina che ci sta praticamente col fiato sul collo che può perdere magari un minimo di punti o è l'Atalanta magari che le andrà a perdere o perché no il classico pareggio dove comunque se noi vinciamo rosichiamo due punti a tutti la Roma ha una partita molto difficile con il Verona abbiamo visto che nonostante il Sassuolo veniva da un mese di partite insomma incerte non bellissime risultati non positivi poi ha tirato fuori la prestazione con la Roma comunque che è riuscita solo all'ultimo minuto del recupero a risollevare praticamente le sorti prendendosi quel punto e non rischiando l'ennesima caduta quindi una partita che può anche lì con un Verona che sta invece in ripresa sta giocando bene anche lì potrebbe succedere qualcosa di interessante insomma ragazzi se ci fossero anche questa settimana un paio di pareggi che ne so della Roma della Juventus ma potrebbe uscirne fuori ma anche dell'Atalanta ecco vincere la Udine sicuramente ci metterebbe in una situazione ottimale anche perché poi dopo dovremmo affrontare il Napoli e lì probabilmente bisogna mettere in conto che magari soprattutto con un Lazare in meno quindi con una freccia in meno nell'arco ci può essere la partita dove non si ottengono punti tutto da giocare ripeto un campionato aperto per tante posizioni un po' più incerta un po' più certa non incerta un po' più certa secondo me l'andamento invece per quelle che devono andare in retrocedere perché comunque la Salernitana nonostante tanti nuovi acquisti si vede che ha migliorato qualcosa ma mi sembra ancora molto indietro il Genova uguale ha cambiato ha messo altri acquisti ha cambiato un po' la mentalità gioca meglio ma mi sembra anche io una squadra ormai troppo indietro troppo in ritardo quindi anche nelle zone diciamo di bassa classifica le cose sembrano un po' meno incerte però ripeto ci sono ragazzi 13 partite 13 partite quindi è impossibile dire adesso soprattutto era impossibile dirlo qualche settimana fa che che gli obiettivi erano settimi ottavi posti secondi posti quarti posti come dico sempre bisogna sempre comunque cercare di puntare la luna per cadere nelle stelle e non puntare al soffitto per andare a culo per terra sul pavimento quindi basta dire che le squadre non ci sono in questo caso parlo di Lazio i giocatori non ci sono la società così i giocatori ci sono è stato dimostrato quindi usiamoli al meglio cerchiamo di far bene cerchiamo di essere compatti perché ci sono ancora tanti punti a disposizione e per me essendo un anno comunque di transizione e avendo messo io stesso la Lazio settima nella classimica finale per me c'è la possibilità di andare comunque a giocarcela fino all'ultimo e sperare anche in un quarto posto vi dirò proprio perché se non arrivo la luna magari cado nelle stelle ragazzi ci vediamo presto al prossimo video vi ricordo questa sera San Valentino non ci sarà la stanza su Clubhouse verrà rimandata domani 15 martedì 15 alle 21.40 vi aspetto su Clubhouse iscrivetevi e iscrivetevi anche su Instagram Olivia Dulce un'altra